Una mano sul volante, l'altra sul cellulare, la testa china per leggere e scrivere messaggi, solo sporadicamente alzata per un rapido controllo a ciò che accade sulla strada, mentre dal finestrino accanto a lui scorrono i paesaggi prima della riviera del Brenta, poi della laguna. Siamo a bordo di un autobus a CTV della linea 53 E, da Padova a Venezia, passando per Stra, Fiesso, Dolo, Mira, Uriago e Marghera. L'autista del mezzo però sembra più impegnato nelle conversazioni che sta intrattenendo sul cellulare che sulla tratta, tanto che un nostro telespettatore inizia a filmarlo. Via via si vedono a fianco del guidatore le diverse strade che compongono il tracciato dell'autobus, fino a riconoscere il cavalcavia di Mestre, il ponte della libertà. Oramai siamo vicini al capolinea, ma la condotta di chi ha il volante non sembra cambiare molto. L'attenzione, a giudicare da quello che si vede in questi filmati, è sempre rivolta prevalentemente allo smartphone. Penso sia una cosa vergognosa e ringrazio il cielo, non sia accaduto nulla, ha scritto il telespettatore che ci ha inviato i video. Sappiamo che tutta la riviera del Brenta è circondata da canali e se per caso il bus sbandava, cose che non dovrebbero mai e dico mai capitare, conclude. Assieme alla mail firmata, i video che state vedendo, il telespettatore ci informa anche di avere già inviato un reclamo alla CTV. Usare il cellulare mentre si ha il volante rimane una pratica pericolosa ma molto diffusa tra gli automobilisti, peraltro sanzionata severamente dal codice della strada, qualcosa che si dovrebbe evitare sempre e probabilmente ancora di più quando si guida un mezzo pubblico.